Allora, Pinturillo 2 Italia... Come mi devo chiamare, Luca? Come ti pare? Ma non lo so, forse metterò Sparvi Ma questo non carica, aspetta Mi scussi? Scusi, c'è un uomo per lei Chi? L'uomo? Oh! C'è stato chiarissimo, fallo entrare Fai entrare qualcuno nella stanza qua al TS Qualcuno famoso, così ci sponsorizza Bravo, facciamo le views così Così, così metto... Così nel titolo scrivo, ci sta questo qua famoso Ok, allora, allora, allora Fai entrare... Fatte che gli youtuber veri, stanno tutti mangiando a quest'ora Sparvi puzza Ecco Ok, sono io Baccheo! Baccheo! Lorenzi si fa schifo Ma sì, dai Allora, questo è chiaramente un... Che cos'è sta roba, Luca? È un... E... Boh Ma lo sai che uno ieri su Minecraft mi ha scritto Sparvi... Ti seguo da quando avevi 70.000 iscritti Ma non hai 70.000 iscritti Ci sono rimasto tipo... Però che cos'è sta roba? Ah, non ho indovinato, mannaccia Vichingo Ah, vichingo Vichingo Vichingo! Come ho scritto vichingo? Non abbiamo spiegato agli iscritti cos'è questo gioco Allora, praticamente la gente deve disegnare Noi dobbiamo indovinare e fine Un po' come l'impiccato all'elementare Che cos'è? Un... N... L'ho scritto Lo so Non, non... Mi sa che non è non... È l'Italia questa, ma... Eh? Nuova Zelanda No È Nuova Zelanda, poi Come cacchio si chiama quello Stato? Aspetta Stato Ma questa è l'Italia Ah, na-na-naz Nazismo Non è nazismo Questo è un quadro Dove c'entra il cartellino, Luca? Dove? Perché ne so un cartellino? Ah, è vero Sono tre lettere Guarda, cartellino No, aspetta questa roba Favij ha inserito Favij È entrata Favij Ecco, è entrata una persona famosa Contento, Luca? Non devi più chiamare la gente sul t-speak Possiamo mettere che Favij Perfetto Possiamo sicuramente mettere nei tag Favij nel titolo Favij entra a disegnare con noi Totti, Totti, Totti 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 Non è Totti È il capitano È il capitano È il capitano Bello a tutti i ragazzi Io sono Favij 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 Oh mio Dio Oh my god Oh fuck Ma fami È scritto ricambi Ma vogliamo disegnare Troio No, non è Troio Allora, la T ci sta Anche Troio ci sta A sto punto iscrivetevi anche a me di canale Tonino Ah, no, telaio Non lo so Non so Ah, ecco Non so Non so Non so disegnare Non so Non so disegnare Non so Non so cosa sia, penso Questa si È un cane Posso abbagliare? Il mancato è usuario Reportato in via Il mancato sono io Che ha detto? Il mancato Già ti conosce Non so che è Ma che me sta scrivendo Con la luce del piede sinistro Oh Manuel Questa la tagli, vero Luca? Assolutamente no La taglio La taglio, la taglio Assolutamente Ok, ok Anch'io Non prendetela male se fare Ma non ti preoccupare Favi Allato Oddio, è divinato allato Ah no Flair Che è Flair? Ah, sta scritto Non so cos'è Flair Oh, siamo Tu sei occupo Io so penulti Siamo sopra Favij Sotto Favij Come è possibile quest'anno Sei legale No, aspetta Questo rumore Eri tu Penny 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 Ah, è chiaramente un rustico americano Aspetta Bagnetto Bagnato Bagnato No, perché l'ho detto Luca, non scrivere bagnato L'ho scritto Bagnato No, perché? Bagnato, l'ho indovinato Eh, sì L'ho indovinato Perché io l'ho detto Oh, attenzione Sei tu Non te lo dirò mai Allora Fiorista Bravo Davvero? Sì, è fiorista Muoviti, scrivi Bravo Eh, qualcuno ci sta andando vicino Io sto facendo degli aborti umani Fiorensiste Fiorensiste Guarda C'è un capolavoro Li vuoi questi fiori? Adesso sei sopra di me Fammi capire Sei sopra di me Leopardi andando a disegnare Oh, tocca a me Vai, Luca Ma è impossibile Su, dimmelo Ah, posso disegnare Human Safari Sì, la gente lo capirebbe Puoi anche dirmelo Ma che è? Eh, Human Safari lo dice sempre Piccolo Turista? No Turi Eh, quasi Quasi No, grande Favi Guida tu Tu, tu Turistica Turistica Sì, dimmelo a 5 secondi dalla fine Datti all'Ippica Ha ragione Ha ragione Jenny Luca Datti all'Ippica Ma la smetti di scrivere Vai, Fabi Eh, tocca a lui No, faccio il bau Il mancato è sta Usario reportato e inviato L'artista è stato penalizzato Fabi, cosa hai fatto? Ah, sai perché? Perché molti hanno Ho fatto l'avviso Di che? È in alto a destra Questo cane Il cane, che bello che è È il Che cos'è? Il mar nero? Mar nero A me sembra rosto comunque il mare Ma come ci fa ad entrare mar nero? È la pizza No, non è la pizza Ma io quello l'ha scritto Quindi Che è sto schifo Cos'è? Tazza No Cobra Quello è chiaramente un cobra Tomba A suefazione Cos'è? A suefazione Ma lo sta grigliando Trascinamento Mamma mia, troppo forte Perché l'ho detta a Luca? Dai 23 punti Eh, grazie Devo superare Luca L'obiettivo è diventato questo Abbiamo superato FabiJ Supereremo Luca E il suo La sua tartaruga brutta Sì, oh mio Dio L'ho indovinato Che cos'è? Eh, volevo Vresti Volevi Torrazza Eh, torrazza Cos'è la torrazza? Terrazza Palazzo Non è un palazzo A parte che quello non è mai un palazzo nella vita Oh, ti sto Ancora avanti Sì, ma mi bastano Praticamente Undici secondi E ce la devo fare, dai Tutti concentrati Ok Ah, devi disegnare tu Ok Luca, dimmelo Eh, no Per favore, dimmelo Allora Vabbè, non te lo dico Sembra Pluto Eh, no Pippo Allora, questi sono soldi Ah, sono chiaramente soldi Ok, sì Poi, ci sta qui Ci si vai Ci sta Sparvi Eh, vabbè Vabbè E qui E questa E tutta gente Che Praticamente Lo segue Al canale suo Mi sono belli Cerco di spiegare brevemente La storia Con le parole Mancano 40 secondi Uomiti Pagga i soldi a YouTube Questo è YouTube Questi vanno a lui Vanno a YouTube Eh, che complesso YouTube Troppo complesso E cosa succede? Vai, lo guarda, lo fa apposta È il contrario Di Debiti Quindi in teoria Dovresti esserci Cioè, tutti in debiti E quindi YouTube È il contrario di debiti Debitore Debitore Lui Parvi è debitore Perché paga per gli iscritti Eh, ciao Guarda che non c'era nessuno Siete proprio Sono curiosissimo Eh, crediti Come fai a fare i crediti E resta ancora a 91 Tocca a me Non ti dico niente Ok Dai, ma è facilissima Ma che state allì Che è successo? Eh, non mi ha segnato Ah, ti hai saltato il turno Ma perché? Mi abbana questo La stessa di prima Oddio, che cosa? Aspetta, palazzo Palazzo Eh, non c'entra Il palazzo non era Che cos'era? Ah, guida Ho scritto prima Io sì E abbiamo superato Luca Per pochissimo Però Ogni vertigo di lettere Basta, me ne vado Giuda Dobbiamo superare QGM Perché non è una cosa buona Per me è Max Power Ogni anno ha cancellato No, non è Rovazzi Rovazzi È quello C'è scritto Visto? Provolone Provolone C'è scritto davvero Favij È firmato Favij Non lo so Non lo so Non lo so Muoversi Ah Sì Capisco Vai, identico Va bene ragazzi Il video di oggi Assieme a quel gamer mancato Può finire qua Io vi ringrazio per la visione Lasciate un like Se il video vi è piaciuto Sto facendo questa autravoce Perché ho perso I file finali Della registrazione E niente Come sempre in descrizione Trovate i canali De Locos Seguitemi su Instagram E noi ci becchiamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi